Cari amici di ciliclassico.com, ben ritrovati, quest'oggi concludiamo le nostre video recensioni dedicate a Georg Friedrich Handel video recensioni però appunto in ottica anniversario, quindi non necessariamente novità discografiche ma cd a nostro modo di vedere piuttosto interessanti che ogni appassionato dovrebbe avere nella propria discoteca si tratta di titoli, quelli che presento quest'oggi, anche abbastanza particolari che però aiuteranno forse a meglio comprendere l'handel musicista Handel schiesse per tanti generi strumentali e certamente la sonata barocca ha un posto fondamentale quindi un cd accent dedicato alle sonate eseguite col flauto traversiere da un grandissimo, da Bartol Quicken assieme a fratello Willem Quicken e Robert Koenen al basso continuo come voi sapete le sonate per Handel non furono composte espressamente ed esclusivamente per il flauto traversiere ma queste sono quelle che certamente meglio vengono realizzate con questo strumento Quicken utilizza un flauto copio da Rottenburg 1725 rimaniamo sul terreno delle sonate, specificatamente sonate per fiati una bellissima integrale questa proposta da Dolce Harmony a Mood due vecchissimi dischi, volume 1 e volume 2 credo che sia una delle poche integrali oggi sul mercato con tutte le sonate composte per i fiati e il protagonista è Camerata Köln diretta da Michele Schneider in questo caso abbiamo sì sonate eseguite col flauto traversiere ma anche come vedete con l'Oboe a seconda dunque delle varie tonalità Car Kaiser al flauto traversiere nel secondo volume abbiamo anche, come ovvio che sia, il flauto dolce che era lo strumento più popolare a Londra nel periodo quindi una bella integrale dedicata agli strumenti a fiato arriviamo alle trio sonate la famosa raccolta trio sonate opera 2 questa è una bellissima e anche piuttosto rara versione proposta dall'etinchetta inglese AV con Sonnery, con il gruppo Sonnery capitanato da Monica Haggett con la partecipazione del flautista Wilbert Haselset nell'unica trio sonata che la stampa prescrive per il flauto traversiere che è la trio sonata numero 1 in Si minore bellissime queste trio sonate che si rifanno chiaramente a corelli una bella edizione oltre a quelle forse più note dei London Baroque che come voi sapete hanno inciso sia l'opera 2 che l'opera 5 le due raccolte gemelle trio sonate, questa è veramente una rarità assolutamente poco nota queste sono le trio sonate per oboe e violino proposte dall'etichetta Eperion con l'ensemble Convivion queste tre sonate pare secondo i più recenti studi come vedete non vi è certezza della paternità vengono attribuita a Handel ma pare che siano state composte da un Handel tredicenne addirittura quindi si parla del periodo tedesco e sono veramente molto molto belle troviamo Elisabeth Wolfisch al violino ed Anthony Robson oboe questo è un cd che se non avete invito a cercare anche su internet su Amazon perché merita assolutamente sono trio sonate nello stile italiano ma con un brio tutto particolare arriviamo alle suite per tastiera che sono tornate in auge in questi ultimi anni riscoperte da vari cembalisti vi voglio segnalare ovviamente sto sempre parlando di segnalazioni per un completamento più che una sorta di discoteca ideale quindi più che versioni di riferimento versioni da aggiungere alla propria collezione questo amici Kate Jarrett voi sapete eccezionale pianista jazz che però si è cimentato con il repertorio classico con un discreto successo direi registrando molto bacchia tutto il clavicembalo ben temperato delle variazioni Goldberg qui si cimenta sempre a pianoforte con le suite per tastiera bellissimo cd e cm assolutamente assolutamente consigliato terminiamo infine con i capolavori di Handel quindi Water Music Music for the Royal Fireworks una bella edizione una delle ultime uscite sul mercato proposta dall'etichetta Aliavox di Jordi Saval tipico questo packaging cartonato le Concert de Nation e questa è certamente un'edizione che merita se non avete ovviamente questo in discografia e comunque se volete avere una delle ultime edizioni bene amici con questo terminiamo la nostra rassegna dedicata a Georg Friedrich Handel in occasione del 250 enario della morte